Sono Marco Canestrari, sono un programmatore, vivo a Londra e questo è il mio podcast. Anni fa ho lavorato con Beppe Grillo e Gianroberto Casali. Insieme a Nicola Biondo ho scritto due libri sul Movimento 5 Stelle, Supernova e il Sistema Casali. Se ti appassionano l'attualità, la politica, l'economia, la tecnologia, questo podcast fa... Ogni settimana commento i fatti più interessanti e racconto il retroscena del partito più improbabile della... Talvolta ospiterò qualche amico e farò sentire i vostri messaggi rispondendo alle vostre domande che potete inviarmi dal sito www.marcocanestrari.it Quello che stai per ascoltare è la registrazione di un episodio di Osservatorio Movimento 5 Stelle, la mia rubrica su Liberi Oltre insieme a Nicola Biondo e Costantino. Puoi trovare il video di questa chiacchierata e tanti altri contenuti di altissima qualità sul canale YouTube di Liberi Oltre le Illusioni. Buongiorno a tutti, è domenica 29 novembre, novembre, sì siamo novembre, ok, e siamo qua con Nicola e Marco. Nicola, tra l'altro... Ciao, buongiorno. Ciao. Nicola, protagonista dell'articolo di cui parlano tutti, tranne il TG1, che riguarda la... come possiamo chiamarla? La Tobacco Gate, come possiamo definirla? Questa storia di questo strano intreccio di interessi fra la Casa Legge Associati e la Multinazionale del Tabacco, Philip Morris. Per fortuna l'inchiesta di Nicola comincia a rimbalzare su un po' di testate, ancora non ha scalfito troppo il mainstream più mainstream, ripeto, il TG1 sembra non avere interesse a pubblicare la notizia, però gli altri giornali pian piano ci stanno arrivando. C'è arrivato, ma qui faccio giusto un inciso, anche il fatto quotidiano, noto house organ del Movimento 5 Stelle, che di fatto minimizza la cosa. Allora, io vorrei partire in questa chiacchierata con voi due, da Nicola, che ci fa un pochino un recap dell'inchiesta, che cosa è contenuto nell'articolo che è stato pubblicato, come è arrivato lì ad avere determinati documenti, trascendo le fonti naturalmente che devono essere riservate, ma soprattutto che cosa significa questa inchiesta. Allora, intanto grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Il giornalismo, almeno quello migliore, è un lavoro collettivo e quindi per introdurre la questione vanno sottolineate delle cose. Il primo che ha rivelato l'intreccio commerciale fra la Casaleggio Associati e la multinazionale del tabacco americana, Philip Morris, è stato Carlo Tecce, nel, mi pare fosse il 2019, autunno 2019, con una bellissima inchiesta. Non è una rivelazione, è soltanto, insomma, una nota di colore. Io da mesi avevo una fonte interna che mi aveva raccontato questo e da mesi Philip Morris mi rimbalzava dicendo no, ma non è così, ma forse è così, e roba del genere, Carlo, che mi ha bruciato e ha fatto bene e ha pubblicato per primo questa bellissima inchiesta, che per me è stata, insomma, un colpo al cuore, quindi grande invidia professionale per Carlo Tecce, ma io gli ho fatto subito i complimenti la mattina stessa. La seconda grande inchiesta su Philip Morris, sulle sue attività di lobbying e i suoi rapporti molto stretti con l'area governativa è quella di Report, che è arrivata, credo, poco dopo, con una grande inchiesta firmata da Giulio Valesini. E arriviamo a oggi, l'inchiesta del riformista, in maniera particolare su questo rapporto commerciale, quindi le cifre, le fatture che ammontano a 2 milioni e 400 mila euro al netto dell'IVA, credo che siano un milione e 8, un milione e 9, è stata fatta da Aldo Torchiaro sul riformista. Per cui onore a tutti questi colleghi che sono stati brevissimi. Io più modestamente ho ricostruito sul riformista, ormai due o tre giorni fa, tutta la storia degli sconti fiscali straordinari e, secondo me, ancora incomprensibili, che il governo Conte 1 e il governo Conte 2 hanno permesso a Philly Morris. E ho fatto un po', come suol dirsi, i conti della serva, utilizzando una serie di fonti aperte e fonti giudiziari. Le fonti aperte mi hanno permesso di affermare che questa tassazione straordinaria che riguarda il tabacco riscaldato, che è praticamente un monopolio di Philly Morris, ha permesso alla multinazionale americana un risparmio di 500 milioni di euro l'anno. Questa cifra io l'ho desunta da un rapporto dell'Università Lewis. In più ho raccontato la storia, diciamo, misconosciuta, che però si agganciava perfettamente alla novità della quantificazione del passaggio di denaro fra Philly Morris e Casaleggio, associati un documento giudiziario del Tribunale di Roma che racconta un'incredibile storia, e cioè che nel 2018 per i primi sette mesi i vertici delle dogane italiane, l'ufficio delle dogane per intenderci è un lavoro all'interno del Ministero dell'Economia, sarebbe, secondo il Tribunale di Roma, stato completamente asservito ai vertici della Philly Morris, comunicando ad essi una serie di informazioni riservate che gli avrebbero permesso di avvantaggiarsi e non di poco rispetto alla concorrenza. Il processo, quindi, al vertice della Philly Morris e agli ex vertici delle dogane si aprirà, se non vado errato, il 12 gennaio prossimo con l'udienza preliminare. Quindi io ho fatto, diciamo, un lavoro di collazionare i pezzi mancanti e metterli uno dietro l'altro di questa liaison in cui all'interno c'è, appunto, la storia del rapporto commerciale fra Casaleggio Associato e Philly Morris, che però è molto, molto, molto più ampio. Fermo qui? Ok. No, specifichiamo questo punto, appunto, che sono i vertici precedenti dell'Agenzia delle dogane e non quelli attuali. Giusto, Nicolai? Assolutamente sì. Va dato a Cesare quel che è di Cesare. Esatto. Va anche detto che Marcello Minenna, che è stato nominato dal governo a capo delle dogane monopoli, ha avuto il merito, ha il merito di avere, in un certo senso, cambiato completamente il vertice, anche alla luce, credo anche alla luce, di questa inchiesta, che io ho denominato la guerra del tabacco, inserendola, appunto, in un panorama assai più ampio che, a mio modesto avviso, ed è questo il vero scandalo del silenzio dei media, che, a mio modesto avviso, coinvolge i massimi vertici del governo. Ma questo magari lo raccontiamo più avanti. Ci arriviamo. Sì, sì, ci arriviamo. No, effettivamente va dato atto. Io, notarialmente, non ho particolare simpatia per Marcello Minenna, più che altro perché quando scrive di debito pubblico. Però va dato atto che effettivamente qualcosa ha fatto nel senso di rimuovere. Mi pare che l'abbia rimossi sono sospesi questi dirigenti o funzionali delle dogane. Li ha sostituiti. Credo che un paio di queste persone oggi sotto indagine e vediamo dal 12 gennaio forse sotto processo, alcune di queste sono state messe in pensione. Certamente. Beati loro che l'avranno, poi. Beati loro che l'avranno, naturalmente. Allora, c'è la cosa su cui sarebbe importante sapere di più a prescindere adesso dall'iter giudiziario che deve fare il suo corso e sul quale non credo che nessuno di noi abbia voglia di metterci becco perché la magistratura faccia il suo messire. A noi ci interessa evidentemente il lato politico. E fra le cose che ci dicevamo qualche giorno fa è il fatto di questo tentativo reiterato di introdurre una tassazione maggiore del tabacco riscaldato tentativi che poi venivano fermati usiamo una terminologia a care 5 stelle da manine che facevano sparire amendamenti oppure che facevano sparire articoli dalle bozze di legge di bilancio. Corretto? Marco sta sorridendo. Vai Marco. Sorridevo per le manine. Sì, c'è una persona in particolare che si dice molti nel Movimento 5 Stelle lo dicono ma l'ha confermato non più tardi di ieri mattina l'ex ministro Lorenzo Fioramonti ex ministro dell'università che spiegava come quando aveva fatto notare questo sconto fiscale e aveva chiesto di rimuoverlo fu fermato in questa richiesta e dopo un po' di insistenza da parte di Nicola che partecipava alla trasmissione Omnibus insieme a lui ieri ha fatto il nome della persona che ha spinto per fermarlo che è Laura Castelli. Quindi abbiamo due elementi almeno i fatti incontrovertibili cioè il contratto tra Casaleggi Associati e Philip Morris gli sconti fiscali e la testimonianza di un importante ex esponente del Movimento 5 Stelle che ci dice che le pressioni per mantenere questi sconti fiscali arrivavano direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella persona di Laura Castelli. Abbiamo un terzo elemento in realtà in questa vicenda che può andare a colmare in parte un tassello ancora mancante che è il vero e proprio contratto tra Casaleggio e Philip Morris. Noi non sappiamo che cosa ci sia scritto su questo contratto non sappiamo qual è l'attività concordata per 2 milioni e 400 mila euro che dovrebbe essere in capo a Casaleggi Associati quello che però sappiamo è l'attività concordata tra Casaleggi Associati e Mobi ricordiamo Mobi Vincenzo Norato che è la società che si occupa anche del trasporto marittimo tra la Sardegna e il continente con un accordo che prevede sconti per la continuità territoriale un accordo con lo Stato ebbene c'era non so se ancora ci sia c'era sicuramente un contratto tra Mobi e Casaleggio Associati e tra Mobi e la società che si occupa adesso del blog di Beppe Grillo ebbene questo contratto ora leggo scusate se non guardo in camera ma prevedeva che Casaleggio Associati si occupasse della stesura da qui iniziano le virgolette del Corriere della Sera stesura di un piano strategico e la gestione di iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e gli stakeholder del settore marittimo sulla limitazione dei benefici fiscali del registro internazionale alle sole navi che imbarcono equipaggi italiani o comunitari il mandato è duplice dice il Corriere e qua arriva la parte interessante perché si tratta di sensibilizzare anche le istituzioni e raggiungere una community di un milione di persone ora io credo che le parole interessanti siano sensibilizzare le istituzioni cosa vuol dire sensibilizzare le istituzioni è un'attività di lobbying sensibilizzare le istituzioni cosa significa se non andare a fare attività di lobbying che in altri contesti sarebbe assolutamente legittima è interessante perché è un po' la dimostrazione di quello del rischio che paventavamo io e Nicola quando dicevamo che quando un imprenditore si siede davanti a Davide Casaleggio chi ha davanti? Ha davanti l'imprenditore di una piccola società di consulenza di Milano oppure davanti il proprietario del partito di governo questa è la confusione che genera la struttura che ha messo in piedi Casaleggio e che crea come dire problemi dal punto di vista della chiarezza dei finanziamenti che passano attraverso Casaleggio Associati ovviamente dicevamo prima eventualmente è la magistratura che se ne deve occupare ma una una chiarezza sull'elenco dei clienti e sulle attività che Casaleggio fa per questi clienti sarebbe più che opportuna data la peculiare situazione organizzativa del Movimento 5 Stelle Marco lascia che si interrompa un attimo noi stiamo facendo io e Massimo Famularo stiamo facendo proprio su questo canale una serie sulle lobby sulle lobby tant'è vero che proprio stamattina poi chi vedrà questo video vedrà successivamente il video registrato stamattina con un professore di diritto amministrativo all'Università di Perugia che si è occupato si occupa professionalmente di lobbying e di rappresentanza di interesse così come viene chiamata in Italia l'attività di lobbying e dicevamo proprio questo un'attività di lobbying è giustificata persino auspicabile purché sia fatta secondo principi di competenza e trasparenza ora mi pare che in tutto questo è vero che la legislazione italiana è molto carente l'abbiamo sottolineato in tutto questo una cosa che manchi certamente anche per quanto riguarda Mobi mi pare di capire è la trasparenza nel senso che i rapporti fra istituzioni nella fattispecie Parlamento Governo e gruppo di pressione stakeholder deve essere fatto in assoluta trasparenza altrimenti il sospetto che ci siano attività più che altro di pressione adesso non voglio dire di traffico di influenze o altro perché è una materia penale che non ci compete non sarei neanche in grado di affrontare il sospetto evidentemente viene assolutamente sicuramente la carenza legislativa italiana aiuta questa confusione ma il punto qua è il modello di gestione del consenso allora ci sono due possibili modelli nelle democrazie avanzate occidentali il modello di finanziamento pubblico e quindi i partiti ricevono finanziamento pubblico in base a parametri che possono essere concordati il numero di voti con un minimo per magari i partiti che si presentano la prima volta insomma ci sono varie possibilità però finanziamento pubblico quindi i partiti non ricevono finanziamento privato se non con un fortissimo limite e lo Stato si occupa di garantire il finanziamento necessario al funzionamento dei processi democratici oppure c'è il modello americano con tutti i suoi limiti perché anche lì ci sono più che un sistema per aggirare le norme e per coprire alcuni finanziamenti però di base cosa succede? i partiti americani possono ricevere fondi sostanzialmente in maniera illimitata ma sono tutti pubblici chi 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 vuole può andare a vedere il registro dei donatori e sa che Kamala Harris Biden Trump ricevono fondi da questa o quel gruppo di potere di influenza tipo ovviamente i repubblicani dalla lobby delle armi è noto questo è l'esempio più classico però tutti lo sanno perfettamente che i repubblicani ricevono finanziamenti dalla lobby delle armi ed è il motivo per cui i repubblicani sono contrari a mettere più restrizioni sulle armi Casaleggio si è inventato la terza via cioè lui essendo personalmente il capo della sua azienda e il capo della struttura che amministra il partito mette nelle condizioni le aziende o i poteri che vogliono influenzare le decisioni del partito di avere un terzo canale perfettamente lecito fin qui da quel che ne sappiamo e cioè offrire consulenze all'azienda di Casaleggio ed è compito oneroso del giornalismo andare a scovare questi clienti perché la SRL in Italia può tranquillamente non pubblicare la lista dei clienti e fornitori e di conseguenza se io sono una una grossa multinazionale che vuole ottenere vantaggi fiscali per un mio prodotto posso eventualmente andare dal proprietario della struttura organizzativa di un partito dargli una consulenza molto generosa sperando che qualcosa succeda tra Milano e Roma cioè io io company scelgo di diventare cliente della Casaleggio Associati per servizi di marketing o quello che sia ok guarda caso la Casaleggio Associati di fatto controlla attraverso piattaforma attraverso fornitura di servizi attraverso attenzione non la Casaleggio Associati ti corrego per evitare i problemi russo certo è una spin-off di Casaleggio Associati esatto c'è appunto questa adesso sarò per usare un altro termine che mi espone a qualche rischio comunque c'è un una il sospetto di una commissione di interessi che evidentemente difetta di trasparenza questo stiamo dicendo fondamentalmente assolutamente sì e l'anello mancante di questo e se vuoi ne parliamo fra poco è il fatto che Casaleggio ha tutta la possibilità e lo si sta dimostrando in questi giorni poi appunto vediamo come di influire sulle decisioni di linea politica del partito perché appunto ne controlla i processi democratici lui non è segretario del partito ha ragione quando dice non firmo leggi però può attraverso l'amministrazione della piattaforma che gestisce la democrazia interna del partito favorire o sfavorire determinate dinamiche manda volevo fare di entrambi c'è il famoso contratto che il candidato del movimento 5 stelle sottoscrive con 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 Rousseau giusto con l'associazione di Rousseau dipende da quale contratto parliamo però io mi riferisco a quello no io quello che ho in mente sempre sembrava una cosa molto surreale era il fatto che o ci si uniformava a determinate regole stabilite in quel contratto oppure si è risposte a penali anche molto pesanti le persone con cui all'epoca parlai che si occupano di legge di giurisprudenza mi dicevano che il contratto sostanzialmente era facilmente impugnabile da chiunque perché non contraveniva a regole che sono poi quelle sancite dalla Costituzione addirittura a vincolo di mandato eccetera eccetera quel tipo di contratto secondo voi può configurare una forma di pressione o di controllo lo è stato per un per un lungo periodo sicuramente perché qua faccio intervenire Nicola perché so che tiene a fare la battuta che gli faceva a casaleggio padre però sì per un lungo periodo questa è stata una forma di coercizione di fatto dell'esercizio della funzione del parlamentare che cosa gli diceva cosa diceva casaleggio Nicola casaleggio una volta definì chiacchierando con me i suoi eletti parlamentari del Movimento 5 Stelle li definì avatar in carne e ossa vale a dire dei soldati digitali che lui decideva di candidare o meno e governare o meno e di influenzare o meno quindi insomma e rispetto al contratto diceva quando gli si faceva notare che era appunto facilmente impugnabile sì è vero è vero basta che ci credano ecco questa è una battuta che ha fatto non solo a me quando quando io gli dicevo ma guarda che tu non puoi chiedere la firma al di là se poi te la mettono meno in calcio al documento che gli proponi a nessuno con queste regole così diciamo stringenti per usare un eufemismo e gli dicevo insomma che non era previsto dalla legge una roba del genere e lui un po' ci rimuginava e poi mi diceva basta che lo credano basta che chi firma lo creda davvero che io posso far rispettare un un contratto un vincolo una promessa del genere ma questo è indicativo scusate la tirata insomma un po' da vecchietto moralista questo è indicativo della bassa scolarizzazione comprensione di un testo da parte di tutti noi per cui siamo arrivati a un punto che un paese del G7 riesca a promuovere candidare e votare un certo numero di persone che a non sanno che cosa stanno firmando b che firmerebbero qualsiasi cosa pur di entrare nella giostra della politica del sentirsi chiamato onorevole o senatore o addirittura ministro quindi è una delle cartine di tornasole che ci fa capire come davvero la politica è è diventato un un ambiente che raccoglie una sorta perdonatemi il populismo ma di discarica sociale di discarica sociale perché attira come come la la carta moschicida quelle mosche che vogliono farsi attirare e il risultato è sotto gli occhi di tutti perché poi gli eletti nominano i consulenti i consulenti nominano i consigli di amministrazione è così a cascata quello va detto una cosa a me fa bello anche l'affetto insomma che io non riesco a dimenticare nei confronti di di Gianroberto però va detto una cosa che qui siamo oltre il film apocalittico e divertentissimo che si intitolava Idiocrasi qui siamo ben oltre Idiocrasi e Gianroberto ha colto i segni del tempo gli anticipati ha capito che il mondo era pronto ad avere uno come Trump un cialtrone alla Casa Bianca lui più modestamente in Italia ha raccolto lo spirito dei tempi e l'ha trasformato nel innegabile successo comunicativo e politico del Movimento Cinque Stelle senza dubbio c'è una c'è un passaggio del tuo articolo Nicola che vorrei sottolineare quello a cui facevo riferimento quando parlavo di Manine ora quello che succede all'interno dei ministeri o degli uffici tecnici dei ministeri quando si deve estendere una legge complicata come la legge di bilancio probabilmente lo sanno soltanto loro o non lo sanno neanche loro sta di fatto che nelle tante bozze che circolano prima che si arrivi al documento di programmazione e poi successivamente a legge di bilancio si leggono delle cose che poi a un certo punto spariscono fra queste cose c'è l'articolo 192 se ricordo bene che prevedeva proprio il passaggio sulla tastazione del tabacco ebbene che è successo sì allora l'articolo 192 riguardava un piccolo aumento della tassazione proprio sul tabacco riscaldato targato Fini Morris ed era collegato a un altro com che riguardava la lotta al contrabbando con regole ancora più stringenti proprio questo articolo era di diretta emanazione si può dire cioè insomma è una benemerenza di Marcello Minen certo questo articolo il 192 con queste norme a cui ho fatto riferimento sparisce nel momento in cui in Parlamento Camera e Senato arriva non più la bozza ma la legge di bilancio il testo il testo e la legge di bilancio firmato dal Ministro Gualtieri sparisce sparisce tutto evidentemente c'è stata una contrattazione tutta politica in quelle segrete stanze che un tempo il movimento diceva di voler illuminare illuminare un corno sarebbe bello che qualcuno le illuminasse ma non perché è illegittimo badate bene che il governo decida di mantenere la tassazione è una scelta politica ma siccome in questo momento mai come in questo momento le politiche fiscali e le politiche della salute vedremo perché c'entrano le politiche della salute sono le politiche con la P maiuscola sulle quali tutti noi semplici cittadini dobbiamo tenere gli occhi aperti lì è successo qualcosa che non ci hanno spiegato e che se non fosse stato per le ricostruzioni che i tanti abbiamo fatto sarebbe rimasto lì una cosa visto nasciuta anche perché l'emendamento che mi pare fosse a firma PD forse era quello previsto precedentemente prevedeva la costituzione con i proventi maggiori dell'aumento di questo aumento che di quanto era un 15% l'emendamento a cui tu fai il riferimento è un altro dei misteri gloriosi o di pulcinella vedete un po' voi che questo governo ci ha in un certo senso taciuto ci arriveremo non è legato alla legge di bilancio quella che è in votazione al Parlamento quello è lo scandalo sullo scandalo e appunto racconta la politica della salute pubblica della sanità pubblica che questo governo ha portato avanti quello è il vero scandalo allora entriamoci abbiamo detto c'è un articolo 192 che circola in bozza e che poi sparisce quando si fa il testo definitivo che deve essere sottoposto prima alla commissione e poi all'aula poi c'era c'è la storia dell'emendamento che era molto interessante soprattutto in un periodo come questo che stiamo vivendo perché i maggiori proventi da tassazione da aumento di tassazione sarebbero andati ad alimentare un fondo per la sanità corretto? Assolutamente sì questo è il vero scandalo questa è la cosa che più mi lascia perplesso che non venga raccontato dai grandi media italiani e insomma questa è la storia nell'aprile 2020 quando tutti noi eravamo in zona rossa e tutti noi eravamo chiusi a casa spaventati terrorizzati con centinaia a un certo punto anche oltre mille morti una associazione che si chiama cittadinanza attiva propone ad alcuni parlamentari di presentare un emendamento a uno dei tanti decreti del governo Conte questo emendamento prevedeva l'innalzamento sostanzioso molto sostanzioso delle tasse sul tabacco riscaldato per creare un fondo a favore di quei malati che non ospedalizzabili vale a dire che non potevano andare in ospedale proprio per l'emergenza covid quindi quei malati cronici che avevano bisogno di assistenza domiciliare io credo che se ci mettiamo in dieci almeno una persona la conosciamo quindi il massimo dell'emergenza è una misura di giustizia equità sociale di salute pubblica di grande rilevanza bene quell'emendamento viene presentato viene presentato a firma di una serie di parlamentari addirittura di Forza Italia di l'EU o di articolo 1 insomma diciamo della sinistra del PD per intenderci da esponenti dal PD da esponenti del Movimento 5 Stelle e da fuoriusciti del Movimento 5 Stelle quell'emendamento viene bloccato con pressioni fortissime ci arriveremo poi alle pressioni un altro capitolo quindi il risultato qual è? che il governo Conte mentre ci diceva state calmi state buoni stiamo pensando per voi e tutti quegli slogan belli ma anche un po' farlocchi decideva di scegliere fra i malati italiani che pagano le tasse e Philip Morris la multinazionale del tabacco che se non erro fattura 80 miliardi di euro l'anno in tutto il mondo sceglieva quest'ultima questo è lo scandalo è una delle cose che più mi ripugna è che la politica che viene raccontata da tutti noi ognuno si prenda le sue responsabilità è tutta fatta di danzetti balletti rimpastono il rimpastino la verifica questo lessico morto di un ambiente morto senza che si parli mai delle cose concrete vere questo è il vero scandalo l'essenza della della politica della sanità pubblica portata avanti dal governo Conte è questa è riassumibile in questo hanno preferito Philip Morris alla salute di migliaia e migliaia e migliaia di italiani lasciami fare per un attimo solo poi prometto di smettere l'avvocato del diavolo una pagina l'avatar di Casaleggio scusami l'avatar di Casaleggio Roberto Fico ha sceso felicemente per lui alla presidenza della camera ti direbbe ne ha facoltà ok grazie grazie signor presidente onorevoli colleghi allora faccio per un attimo l'avvocato del diavolo ma proprio veramente per un attimo perché poi sono panni che sento troppo stretti una pagina di un carissimo amico che si chiama Grullini ha recuperato proprio in questi giorni un articolo uscito nel 2017 sul blog 5 Stelle proprio a firma mi pare di Roberto Fico e di Laura Castelli sicuramente Laura Castelli no non era Villa Rosa Villa Rosa brava brava oggi entrambi i viceministri al MEC esatto adesso Villa Rosa e Laura Castelli nel quale articolo si diceva che l'aumento della tassa adesso un pochino di economia me ne intendo tra l'altro articolo che io avevo anche citato in un mio post su Facebook ai tempi quando uscì nel 2017 lo citai in modo ironico per ragioni che poi se volete vi spiego in due parole l'aumento della tassazione avrebbe colpito la filiera italiana del tabacco perché gli italiani le imprese agricole che si occupano di tabacco fanno parte di questa filiera del valore legata a Philip Morris e ad altri produttori e quindi si sarebbe ottenuto un effetto non desiderabile su quella parte dell'economia secondo voi ripeto al netto delle considerazioni di carattere microeconomico che faceva la Castelli e che faceva Alessio Villarosa che sono francamente ridicole questo lo posso dire senza nessun dubbio secondo voi è una difesa sostenibile questa oppure un po' pelosa no secondo me non è affatto sostenibile non è affatto sostenibile perché è completamente scavalcata del problema e cioè il processo di formazione delle decisioni politiche in materia di tassazione in materia di autorizzazioni in qualunque materia cioè le nostre democrazie funzionano perché i processi sono chiari e trasparenti nel momento in cui i processi non sono chiari e non sono trasparenti quindi non è chiara il motivo per cui oppure è dubbio il motivo per cui una decisione viene presa o preferita ad un'altra quando cade la chiarezza in questo processo allora qualsiasi altra spiegazione perde di credibilità automaticamente quindi no non è assolutamente pur magari avendo qualche fondo di ragione tu mi dici di no io non sono esperto in materia quindi non sono in grado di dirlo ma proprio perché le persone non sono nella stragrande maggioranza dei casi in grado di valutare la bontà delle decisioni è fondamentale che ci si fidi del processo è come con le elezioni è ovvio che nessuno può capire se un algoritmo per un eventuale voto elettronico abbia un errore o no ed è il motivo per cui il voto elettronico a distanza è un pacco perché non è chiaro il processo perché le persone non possono comprendere il processo mentre il voto cartaceo è assolutamente limpido fai una X consegni la scheda che è coperta e quindi non è riconoscibile il tuo voto e poi puoi assistere a ogni passaggio dello spoglio e del conteggio quindi il processo è trasparente chiaro limpido così devono essere trasparenti chiari e limpidi i processi di formazione delle decisioni a ogni livello dell'amministrazione questo è il problema secondo me assolutamente sì completamente d'accordo un piccolissimo inciso sul perché quel ragionamento di Laura Castelli adesso di Viderosa non aveva senso da un punto di vista economico perché loro citavano a sproposito senza probabilmente aver mai letto nulla la curva di Laffer e quindi una sorta quella ci arrivo anch'io una sorta di elasticità dei prezzi che in realtà nella fattispecie la curva di Laffer non è mai stata non è mai stata modellizzata nella fattispecie di quel tipo di tassazione non ha nessun precedente nessuna osservazione empirica riguardo la tassazione Nicola tu hai fatto anche una bella opera di ricostruzione del trattamento diciamo delle accise chiamiamole così sul tabacco riscaldato che viene in altri paesi sì semplicemente ho fatto un lavoro di conoscenza per poi metterne al corrente chi mi legge e cioè il prodotto di tabacco riscaldato targato Fidin Morris è un prodotto di grande successo per esempio in Estremo Oriente dove la tassazione viaggia fra il 75 e il 90% per esempio quindi il regalo che il governo conte 1 e conte 2 poi entreremo nella questione politica il maxi regalo che hanno fatto è davvero incomprensibile ed è incomprensibile perché e proprio ieri ho pubblicato un importante e recentissimo documento del vertice politico e organizzativo del Ministero della Sanità in tal senso perché è incomprensibile perché il Ministero della Sanità fin dal 2018 settembre 2018 aveva chiaramente scritto nero su bianco che il prodotto di tabacco riscaldato era nocivo e che non si poteva certo dire come invece veniva detto che era un modo per allontanare i tabaggisti dal tabacco assolutamente no quindi noi ci troviamo di fronte a un Ministero della Sanità in quel momento retto da Giulia Grillo che diceva guardate che non possiamo assolutamente dire che non è nocivo non nocivo non possiamo assolutamente dire che allontana il consumatore dall'uso di dicotini quindi segnalava una serie di pericoli evidenti eppure il governo decide caso unico perché tutte le cose fra virgolette che fanno male vengono tassate e vengono tassate più delle altre proprio per questo motivo invece decideva l'abbassamento della tassazione che era al 50% durante il governo Renzi e diventerà al 25% con il governo Conte uno e due quindi c'è lì un problema appunto tutto politico e che riguarda anche un problema di gestione della sanità della sanità pubblica concludo dicendo ieri io ho pubblicato una nota di uno dei massimi esperti di epidemiologia e del direttore generale delle risorse umane del ministerio della sanità dove scrivono chiaramente che pregano tutti gli ordini dei medici chirurghi d'Italia di non farsi più finanziare i loro convegni e le loro assise dall'industria del tabacco in maniera particolare Philip Morris lo dicono chiaramente in questo documento questi due noti e bravi professionisti al vertice ripeto del ministro della salute dicono noi abbiamo copertura politica da parte del ministro e qui si apre un altro problema gigantesco fin dove le lobby del tabacco le lobby del superalcolici o quello che è possono entrare in alcuni campi così delicati come quello della salute pubblica finanziando grazie ai loro giganteschi profitti legittimi lo dico da tabaggista quindi legittimi possono però finanziare organizzazioni composte da medici in maniera tale da fra virgolette comprare il loro assenso è evidente che quindi questa nota che io ieri pubblico pone un problema gigantesco Fili Morris così come un'azienda che vende whisky non può dirci che il whisky non fa male o che bevete il nostro whisky perché non fa male rispetto a quell'altro della concorrenza questo è un problema gigantesco ed è un problema di lobbying cioè noi dobbiamo mettere un limite e quale migliore limite se non quello della sanità pubblica perché se no è evidente che tutto è in vendita è davvero tutto in vendita e quindi insomma possiamo anche chiudere la parentesi dello stato novecentesco con i diritti dei cittadini a essere ben informati a essere tutelati nella loro salute e tutto il bla 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 Marco sì ovviamente è il solito problema della trasparenza cioè come dicevo prima o si mettono dei limiti e delle restrizioni specifiche o tutto deve essere pubblico perché io devo sapere che se l'ordine dei medici che organizza tal convegno lo fa perché e dice chi vi partecipa dice determinate cose lo fa perché è finanziato da questa o da quella organizzazione mi viene in mente una nota un noto evento giornalistico internazionale che viene finanziato da facebook che è notoriamente considerato uno dei grossi problemi ostacolo alla corretta informazione negli ultimi anni voglio dire bene però insomma è chiaro che c'è un minimo di conflitto di interessi anche qua il tema è sempre quello hai ragione il tema è sempre quello è la trasparenza tant'è vero che per trasparenza mi sono sceso una sigaretta anche se non avevo voglia di fumare poi sono andato a controllare questa è di bat non è Philip Morris e mi è venuto in mente a proposito dell'attività di lobbying dei produttori di tabacco il film molto carino Thank You For Smoking di qualche anno addietro magari andrebbe rivisto andrebbe rivisto sì il tema è la trasparenza indubbiamente tutte le attività di lobbying sono assolutamente lecite purché vengano fatte in trasparenza io ti rubo io ti rubo ti anticipo la domanda allora la domanda è ci sono state pressioni e da parte di chi perché questo questo maxi regalo fiscale a Philip Morris vedesse la luce a questa domanda hanno risposto prima Giulia Grillo l'ex ministro della sanità o della salute quello che è dicendo sì io ho ricevuto pressioni e ha fatto intendere chiaramente che le pressioni derivavano da Laura Castelli quindi dal vice ministro al me ieri in tv a Omnibus ho avuto il piacere di ascoltare l'ex ministro un altro ex ministro Fioramonti che ha iniziato il solito detto con simpatia nel rispetto delle prerogative dell'onorevole Fioramonti ha iniziato il classico sport italiano chiagni e focchi ha iniziato a dire io ho ricevuto pressioni forti pressioni perché questo maxisconto fiscale non venisse tolto e tutto il resto io sono intervenuto forse anche un po' maleducatamente ma ho fatto il mio mestiere di fare le domande ho iniziato a dire faccia i nomi faccia i nomi faccia i nomi finché lui ha fatto un nome a sorriso e ha detto le pressioni mi venivano da Laura Castelli ora io ho conosciuto molto bene Laura Castelli dal punto di vista politico e dal punto di vista umano mi picco di conoscere abbastanza bene la politica di questo paese anche perché mi sono laureato con Renzo De Felice in storia contemporanea ora per me non è credibile che Laura Castelli abbia fatto tutto da sola perché vuol dire che i ministri dell'economia delle finanze del governo italiano del Conte 1 e del Conte 2 sono asserviti a Laura Castelli e che quindi il presidente del consiglio Conte è asservito a Laura Castelli che il ministro Speranza sia asservito a Laura Castelli questo io non ci credo non è comprensibile non è accettabile condivido questa è una responsabilità di governo condivido io non voglio per questioni mie private e personali e per questioni diciamo giornalistiche da libero cittadino da semplice cittadino non voglio che Laura Castelli diventi il il parafulmine di questo scandalo perché il mio paese è scritto nella Costituzione il presidente del consiglio a dare la linea politica al governo e siccome questa storia di Philip Morris ha riempito le pagine dei giornali per quel l'emendamento scandalosamente rifiutato in pieno lockdown e poi in questi giorni non è accettabile che tutti dicano è stata Laura Castelli ma che è il nuovo la bond girl del governo siamo seri così come non è accettabile vi sembrerà strano non è accettabile dire ma Casaleggio ha avuto i finanziamenti per lavori che spero prima o poi ci dirà da parte di Philip Morris il problema è politico e investe il presidente del consiglio in primis e come secondo investe il ministro della salute anche perché Casaleggio lo incontra il presidente del consiglio l'ultima volta a luglio di quest'anno cioè Casaleggio che è un imprenditore privato ottiene un'udienza di tre ore dal presidente del consiglio in piena pandemia quindi è ovvio che c'è un problema di trasparenza ed è ovvio che come dice Nicola non può essere tutto limitato alle pressioni subite da questo da quel ministro da una persona come Laura Castelli condivido totalmente noi come al solito chiediamo chiarezza trasparenza che è dovuta tra l'altro da parte dell'esecutivo italiano in realtà da questi canali molto spesso partono anzi praticamente sempre quotidianamente partono critiche a questo governo e quasi tutte le critiche si possono sintetizzare in questa parola assenza di trasparenza c'è un'affermazione di Conte che tra l'altro ho riportato stamattina sul mio facebook di qualche mese fa in cui diceva Conte questo non è un governo che agisce col favore delle tenebre mi sembra invece che ci siano tante linee d'ombra nell'attività di questo governo allora facessero chiarezza raccontassero le cose come stanno saremo tutti quanti più sereni e più contenti e sapremo di essere governati non dal Conte Dracola ma da un governo che può anche permettersi di fare degli errori perché chi non lavorano non sbaglia loro lavorano sbagliano un po' troppo spesso a dire la verità per quanto mi riguarda però almeno ci raccontassero per quale motivo sbagliano e come arrivano determinate decisioni per conto di chi sbagliano e anche per conto di chi sbagliano certamente perché poi se sono rapporti leciti per carità si possono anche raccontare i rapporti leciti come diceva Nicola poco fa la consulenza alla casa degli associati ci può perfettamente stare sono rapporti di lavoro purché si sappia che tipo di rapporti sono e a quali prestazioni sono legate quei rapporti di lavoro esattamente va bene se non abbiamo nient'altro da aggiungere tanto ci torneremo perché questo appuntamento sta diventando uno degli appuntamenti clou non abbiamo non aggiungerei niente per questa per questa settimana ma ripromettiamoci di parlare della famosa nella famosa puntata della selezione sulla selezione dei candidati sui metodi di selezione dei candidati del Movimento 5 Stelle di quello che è successo lunedì scorso quando Casaleggio ha presentato alcune novità di Rousseau in termini sia di piattaforma che di associazione perché sono determinati hanno fatto anche un po' incazzare alcuni parlamentari e quindi è divertente parlarne assolutamente sì settimana prossima parleremo di questo a meno che non emerga qualcos'altro di scottante di drammaticamente di attualità come è successo questa settimana beh noi lo sappiamo leghiamo biondo leghiamo biondo lo imbavagliamo gli leghiamo le mani così non scrive e poi parliamo di candidati esatto va bene va bene io ci sto va bene mi leggo da solo ok grazie ciao 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 grazie per avermi ascoltato fino a qui se ti piace questo podcast lascia un like un commento una recensione ovunque tu lo stia ascoltando iscriviti e condividilo con i tuoi amici questa puntata è stata ideata prodotta e montata da me Marco Canestrari la foto di copertina è di Sara Grandieri mi puoi seguire su twitter e telegram cercando il nome utente Marco Canestrari iscriverti alla mia newsletter sul sito marcocanestrari.it o anche mandarmi un messaggio vocale dall'indirizzo marcocanestrari.it slash parla